Ciao India, volevamo dirti che ci siamo trovati molto bene, abbiamo vissuto delle esperienze bellissime vedendo tanti 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 templi, palazzi reali, ci siamo trovati bene con il personale di Ciao India, il primo autista driver è stato veramente unico, bravo a gestire tante situazioni complicate, veramente sativ, sia nel traffico tra vacche, bambini e animali vari che attraversavano la strada eccetera, ma è stato anche molto molto accogliente con noi, amichevole, ci ha dato anche tante spiegazioni di luoghi che abbiamo visitato. Tutto benissimo, il tour è stato bellissimo, abbiamo lasciato proprio il cuore a Mandawa, Mandawa, in altri, comunque è tutto talmente bello, belle belle sensazioni, ci ha colpito anche Fuscar e la vostra organizzazione è stata veramente ottima, almeno finora. Grazie a tutti! Grazie a tutti!